All'ansinologo avevo evidenziato il problema di essere ex fumatrice e quindi il timore di incorrere nel cancro al polmone. Da quel momento avevo fatto come screening l'attac polmone che mi aveva riscontrato in fisica il mio BPCO ed è stato lì che io sono rimasta sorpresa perché non pensavo. Sono rimasta lì come allibita e il radiologo non se ne era accorto. No, io non mi ero accorta di niente, anche perché non correndo, non facendo sforzi, ascensore, anche le scale fatte raramente, quindi certe sensazioni potevano essere abbastanza minime. Quindi non ero resa conto per niente. Le premesse c'erano, nel senso che avendo fumato per tanti anni e un quantitativo non indifferente di sigarette, tante conseguenze a livello, tante patologie possono sorgere. Però quando una persona fuma non ci pensa a queste cose, pensa che se capita qualcosa capita a qualcun altro e soprattutto il timore è quello del cancro al polmone. Alla BPCO non ci si pensa, almeno io personalmente non l'avevo mai presa in considerazione. La mia storia inizia da un po' di anni prima, che ero sofferente di bronchite e probabilmente non hanno mai capito che iniziavo questa malattia, che se forse avessero capito non sarei arrivata a queste condizioni. Però devo ammettere che le malattie vengono anche dei vizi e non dico altro. Dicevo, beh sì, durò fatica a salire le scale, ma perché faccio tante cose, ma perché sono stanca, ma perché lavoro tanto, perché fumo, perché poi sono anche in un ambiente dove si fuma, sì, fumo da tanto. Insomma, c'erano tante cose, però pensavo veramente al tumore, come mi avevano accennato, ma incontro il peggio sempre, non c'è niente per migliorare. Ecco, ho provato poi diversi farmaci, anche cortisoni antibiotici e questi puffi per bocca, alcuni mi facevano venire alla stomatite, anche questo, alla ricerca anche di queste farmaci qui. Cioè, tutto un po', ecco, insomma, io non me l'aspettavo questa, ecco, non me l'aspettavo, però sotto alcuni aspetti, guardi, preferivo il tumore. Patologia respiratoria che io ho ormai da 33 anni, perché è emersa con la mia prima gravidanza, quando aspettavo il mio primo figlio, ho cominciato ad avere accessi di tosse molto violenti, giornalieri, e da allora io tutti i giorni ho almeno un accesso di tosse o anche più, dipende poi dalle situazioni. Il medico ha parlato di BPCO solo recentemente, solo, diciamo, intorno ai quattro anni fa, perché appunto l'aspirometria segnalava un deficit che dice, questa non è più asma, è BPCO. Beh, certo, sapere di avere questa malattia che se poi uno va su internet, cosa che comunque io cerco di evitare di fare, ma comunque tutti ti dico una malattia degenerativa, che causa di morte, insomma, abbastanza, insomma, un pochino, certo, non, e poi soprattutto sapere che è una malattia che non migliora, che appunto tendenzialmente peggiora, ma non migliora, quindi adesso il mio obiettivo comunque è tenerla sotto controllo, cercare di mantenere questa qualità di vita, che comunque è una buona qualità di vita. Io ho scoperto di avere questa patologia circa un 15 anni fa, cioè mi ero accorta che quando facevo le scale o facevo uno sforzo, il respiro mi mancava. Ai primi tempi non ho dato molto, sono rimasto così, poi le cose peggioravano, allora sono andata ad un centro specialistico e lì mi hanno diagnosticato questa BPCO, purtroppo. Al momento, insomma, la cosa naturalmente mi ha un po' traumatizzata, grazie.